L'Africa di oggi è un continente in profonda trasformazione, sia in campo politico, campo economico, sociale, e se siamo qui oggi credo che sia per contribuire a fare in modo che sia un attore sempre più importante nello scenario internazionale. Così il ministro degli esteri Federica Mogherini interviene all'apertura della giornata dell'Africa, che il 27 maggio ha riunito alla Farnesina cariche istituzionali e governative, ambasciatori africani, accademici, scienziati, operatori economici ed esponenti di ONG e della società civile. Quest'anno l'iniziativa coincide con il 51esimo anniversario della Costituzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana ed è dedicato al tema della cooperazione scientifica per lo sviluppo sostenibile. L'evento si inserisce nel quadro dell'iniziativa Italia-Africa, il programma di progetti avviato dal MAE lo scorso dicembre, per promuovere una rinnovata attenzione al continente e arricchire il dibattito sulle sfide globali della sostenibilità, come quelle che saranno affrontate a Milano in occasione dell'Expo 2015. Il piano di azione consolidato africano per la scienza e la tecnologia dell'Unione Africana, conforme agli obiettivi del nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa e sostenuto dall'Unione Europea, punta ad un'Africa ben integrata nelle economie globali e libera finalmente dalla povertà. E' questa l'Africa che sta sorgendo ed è questa l'Africa con cui vogliamo interagire sempre di più e sempre meglio. La giornata dell'Africa oggi ha scelto come tema trasformare l'agricoltura dell'Africa, cogliere le opportunità per una crescita inclusiva e per uno sviluppo sostenibile. Ma la sfida maggiore per i nostri stati consiste nel trasformare questa crescita in inclusione sociale, soprattutto di fare in modo che i giovani, le donne e le aziende familiali siano al centro dello sviluppo e soprattutto del programma di sviluppo africano. Sono lieta che 41 paesi africani abbiano già aderito a Expo e spero che altri potranno assicurare la partecipazione ad un evento così rilevante per gli obiettivi di crescita del nostro pianeta. L'Expo di Milano 2015 riflette le preoccupazioni dell'Africa da un lato e dall'altro continuerà a rafforzare il ruolo dell'Italia nella ricerca di soluzioni per problemi legati alla sicurezza alimentare, alla nutrizione e allo sviluppo sostenibile. A fianco ai tanti punti di forza e ai progressi conseguiti in questi anni dal continente africano esistono però ancora situazioni di crisi e di instabilità che impongono all'Italia di rafforzare il proprio impegno. Ma non possiamo pensare alla crescita di domani se non affrontiamo i drammi di oggi. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo per evitare che tragedie come quelle che avvengono a largo di Lampedusa continuino a ripetersi. I nostri vicini sono anche i paesi dell'Africa subsahariana. Contribuiamo alle strategie internazionali di risoluzione delle crisi in Repubblica Centroafricana e Sud Sudana. Sosteniamo una Somalia stabile, condizione essenziale per la sicurezza del corno d'Africa. E' interesse dell'Italia assicurare la stabilità e lo sviluppo a lungo termine del Mali, del Sahel e del Golfo di Guinea. Ci preoccupa molto l'incremento delle violenze dei gruppi armati ed estremistici. Il rapimento delle studentesse liceali in Nigeria, che è stato definito dalla Corte Penale Internazionale un crimine contro l'umanità. I terroristi che hanno rapito le studentesse hanno inteso colpire il progresso e lo sviluppo della promettente generazione di un paese divenuto la prima economia africana, Grazie a tutti.